Sin dall'inizio ho detto che volevo far tornare il Liverpool competitivo. Ora stiamo effettuando molti cambiamenti che di certo richiedono lavoro e ovviamente come ogni allenatore chiedo pazienza, anche se so che il calcio non ne ha. Quindi quello che mi interessa quest'anno è che siamo sempre competitivi. Certo, puntare alla testa della classifica sarebbe un grande risultato, ma al momento ci sono 7-8 squadre che ambiscono la zona Champions. Per noi è meglio comunque pensare di essere competitivi e basta. No, non ci tireremo indietro dalla lotta alle prime quattro posizioni, che è proprio l'obiettivo di un club con la nostra storia, ma è più facile a dirsi che a farsi e negli ultimi tre anni abbiamo sempre fallito. Ora dobbiamo provarci e sfruttare il lavoro messo in campo negli ultimi anni per tornare al top. Speriamo di farcela, stiamo lavorando duro per farlo.